Spaventati? Non credo, a meno che non vi faccia paura correre. Riguardiamo la scena. All'improvviso la scena non è diventata molto più spaventosa. Perché musica ed effetti sonori cambiano del tutto l'atmosfera? La musica può trasformare un oggetto solitamente gradevole in qualcosa che è minaccioso. Ma non sono suoni qualsiasi che innescano reazioni di paura nel cervello. Ve lo mostreremo in questo gioco. Dovete solo ascoltare e capire che cosa vi suscita il suono. Pronti? Chiudete gli occhi e ascoltate. Via! Bene, potete aprirli. Come vi siete sentiti? Un po' spaventati? Perché quei suoni erano così terrificanti? La cosa interessante è che questi suoni acuti assomigliano ai vagiti di un bambino in pericolo. Dato che siamo programmati per reagire se i nostri piccoli sono in pericolo la risposta a questi suoni è molto viscerale. Per una specie la minaccia più grande è la morte dei piccoli. Perciò il cervello è programmato per individuare questi suoni acuti. Perciò il cervello è un po' spaventato.